Puntare sul turismo e in particolar modo sull'albergo diffuso. Questo è l'obiettivo della manifestazione di interesse che ha pubblicato il Comune di Vivona, inerente alla concessione di immobili comunali per la realizzazione appunto dell'albergo diffuso. L'iniziativa è volta ad acquisire proposte progettuali mirate alla conservazione e valorizzazione di sette fabbricati di proprietà del Comune, la cui futura gestione complessiva nella visione dall'amministrazione comunale potrà rappresentare uno slancio al settore turistico del Comune sicano, incrementare i servizi turistico-ricettivi e culturali e promuovere un indotto interessante anche per il tessuto cittadino legato alle piccole e medie imprese commerciali e artigianali. Nelle proposte di valorizzazione dei fabbricati potranno coesistere sia attività commerciali sia spazi da destinare ad attività turistico-culturali. Inoltre i soggetti interessati, in forma singola o associata, potranno prevedere, all'interno della loro proposta progettuale, servizi e attività differenziate in armonia con le caratteristiche degli immobili e del contesto del territorio circostante, finalizzate alla valorizzazione delle strutture e del tessuto territoriale e compatibili, ovviamente, con le norme vigenti per l'utilizzo degli immobili ricadenti all'interno del centro storico. Soddisfatto il sindaco di Bivona, Milko Cinà, che afferma attraverso questo avviso Bivona intende acquisire le disponibilità da parte degli interessati. Successivamente sarà pubblicato un bando di gara ad evidenza pubblica per la concessione degli immobili destinati agli scopi commerciali e turistici. Oltre alla manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale ha affidato a Farm Cultural Park la redazione di un piano di valorizzazione culturale e di promozione pubblicitaria degli alloggi destinati ad albergo che supporterà fin da subito l'amministrazione e i futuri concessionari nella realizzazione dell'albergo diffuso. Le manifestazioni di interesse, secondo le modalità indicate, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 31 marzo.